Sono 395 nuovi casi di Covid. Oggi in Abruzzo, circa il 9% dei 4.400 test processati. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 95 anni. 142 sono della provincia dell'Aquila, 83 della provincia di Chieti, 69 nel Pescarese e 103 del Teramano. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 13 nuovi casi e sale a 940. Di età compresa tra 59 e 92 anni, 10 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara e 1 residente fuori regione. Nel dato odierno sono compresi due casi risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. Le attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti, sono 17.828, meno 156 rispetto a ieri. 698 pazienti, meno 5 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 76 più 2 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 17.054, meno 153 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Lo comunica l'assessorato regionale della sanità. A me sembra che a livello nazionale ci sia un miglioramento dei dati ed è un miglioramento che mi pare di poter dire anche qui da noi in Abruzzo. Purtroppo, forse non in tutte le province, è un po' a macchia di leopardo, però in linea di massima mi sembra che stiamo notando, probabilmente anche in virtù di queste restrizioni date nei giorni precedenti, un miglioramento. Sono dell'idea che le manovre di contenimento che sono così impattanti sulla qualità della vita di molte persone, poi hanno un riverbero assolutamente positivo che le tutelano dal contagio con questo virus che si trasmette attraverso il passaggio da persona a persona. Io mi auguro che, vista l'esperienza così devastante avuta quest'estate, ognuno di noi, cioè le persone, vadano oltre il dispositivo del governo. Ci vuole un atteggiamento di grande prudenza che tutela noi e chi è vicino a noi.